Itticoltura vista sito archeologico, faremo ogni opportuno confronto con le parti in causa e prenderemo la decisione comune che fa bene non alle persone ma al territorio. Ben precisa la posizione del Presidente del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, sul progetto di realizzazione di un secondo impianto di itticoltura nello specchio d'acqua antistante, il Promontorio di Velia. A chiedere l'intervento di Pellegrino, amministratori e cittadini di Ascea pronti alla mobilitazione per contrastare il progetto, nei giorni scorsi l'amministrazione del Sindaco Pietro D'Angio Lillo ha approvato una delibera per far voti alla Regione Campania. L'impianto dovrebbe essere realizzato nel comune di Casalvelino dalla società LPA che ha già realizzato un primo impianto. Entrambi gli impianti andrebbero ad interessare il Golfo di Velia, un'area ben visibile dall'acropoli con un impatto ambientale e paesaggistico fortemente negativo. A giorni si terrà un pubblico incontro a cui sarà invitato anche il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ad Ascea è di casa. Sulla vicenda intanto arriva alla posizione del Presidente Pellegrino. Due giorni fa è arrivata la delibera del comune di Ascea, dice no ad un impianto di itticoltura che dovrebbe sorgere proprio dinanzi al Promontorio di Velia. E' un po' un controsenso. Da una parte tuteliamo il nostro territorio, dall'altro diamo la possibilità a questi impianti di sorgere in un territorio protetto. Ma il territorio protetto io adesso non conosco la valutazione tecnica. E' chiaro che il parco... Di Libera si chiede espressamente una posizione del Presidente e del Ministro. Il Parco Nazionale del Cereno e dell'Albuno rispetta le leure e le leggi. Questo sia chiaro. Non facciamo sconti a nessuno, non ne abbiamo ancora parlato col comune, certamente essendo il comune un'istituzione e noi dialoghiamo con l'istituzione e con i sindaci perché rispettiamo i sindaci e riteniamo i sindaci chiaramente coloro i quali le sentinelle conoscono i propri territori. Non conosco le motivazioni, ne parleremo, ne discuteremo, faremo sicuramente un tavolo, valuteremo chiaramente la compatibilità con quella che è l'area protetta, valuteremo la compatibilità con quello che è un luogo di pregio come quello del parco e poi insieme con grande sinergia. Io penso che le contrapposizioni sui territori non fanno bene a nessuno. Io continuo a dirlo e anche in questo caso lo dico. Noi facciamo parte di un ambientalismo moderno, non quell'ambientalismo che dice no a prescindere. Noi facciamo parte di un ambientalismo e oggi la sfida vera che abbiamo accettato è quella di far capire che l'ambientalismo non è quello di dire no e di precludere qualsiasi tipo di iniziativa. L'ambientalismo serio e moderno c'è quello di capire, di studiare, di partire dai dati scientifici, di tutelare realmente ma di fare in modo che anche il territorio nel quale viviamo possa diventare un'opportunità. Un'opportunità innanzitutto per i nostri giovani. E come si realizza l'opportunità? Facendo in modo che si possano utilizzare il patrimonio, mantenendo inalterato il valore, il pregio che oggi qui abbiamo nel Parco Nazionale del Centro di Alburni. Quindi noi continueremo con questa linea, lo abbiamo fatto fin dal primo giorno del mio insediamento e anche qui ad Ascea faremo l'opportuno confronto e la decisione comune che è la decisione non che fa bene alle persone ma che deve far bene al territorio.